Senta Bersani che hai fatto? Il regalo di Natale? Che c'ha sotto il braccio? No, ecco, c'ho un iPad, una cosa, una cosuccia, ma non è un regalo per me, è un regalo, un regalino, la sento a me, va a dire anche in tv. Senta Bersani, ieri sera, a di martedì, Conti,